Noi andiamo a prendere posizione, so che forse ci saranno carabinieri, polizia e questa è un'altra cosa che dobbiamo sottolineare perché per togliere le abusive non hanno mai né uomini né donne né nessuno, per togliere noi i regolari domani ci sarà tutta la forza armata del mondo. Sarà uno spostamento ad alta tensione quello del mercato rionale di Catanzaro Lido, disposto con propria ordinanza dal sindaco Sergio Abramo su precisa disposizione della Questura per rispondere alle nuove misure in materia di antiterrorismo. Le trattative tra i tecnici comunali e gli operatori commerciali vanno avanti ormai da settimane ma proprio pochi giorni prima del previsto spostamento si sono interrotte in un clima di tensione. Noi ora contestiamo tutto perché contestiamo tutto. L'arroganza del sindaco, la fretta del dirigente, la fretta dell'assessore. Ora no, la legalità la vogliamo in toto. In toto significa pubblicazione della graduatoria 30 giorni alla proprietaria perché chiunque le può fare ricorso. Nel Mirino sono finite le graduatorie per l'assegnazione degli stalli all'interno dell'area che dovrà accogliere i banchi modificate più volte da Palazzo De Nobili e nuovamente contestate da un gruppo di operatori nel corso delle recenti convocazioni. Allora in una settimana volevano spostare il mercato per vedere, verificare quello che sta distruggendo il signor Abramo. Quello che ha già distrutto in passato vede Catanzaro, vede Santa Maria, ci ha già tolto la dignità del lavoro. Noi vogliamo solo legalità, non vogliamo altro. Ancora siamo in attesa degli stalli, siamo in attesa di essere convocati, siamo in attesa di essere presi in considerazione. Luana Costa per la Cineus 24.